Gran colpo per la Putiolana che ferma il più quotato, Picerno tra le mura amiche del Papa di Cardito, recuperando due volte lo svantaggio e fissando il punteggio finale sul 2-2. Lucani beffati nel recupero nonostante l'entusiasmo per la vittoria nell'ultimo turno sul campo del Bitonto. Primo tempo tutto sommato equilibrato, al diciottesimo il Picerno a rendersi pericoloso per primo con D'Angelo che sfrutta l'assist di Stasi, conclusione sventata dall'ottimo intervento di Romano. Al ventunesimo la pronta risposta della Putiolana con Celiento che crea scompiglio nella difesa lucana, tiro troppo centrale per impensierire Giuliani. Al ventottesimo altra opportunità per il Picerno, questa volta su punizione, Detori sfiora lo specchio della porta. Ancora nulla di fatto, ma lo stesso numero 6 degli ospiti al quarantatresimo recupera palla e con un destro chirurgico, mette la sfera a fin di palo e vantaggio per il Picerno nonostante le proteste della Putiolana poiché era rimasto a terra, piacente e infortunato, costretto al cambio prima dell'intervallo. Tutto confermato con i Lucani avanti 0-1 al riposo. La rabbia dei padroni di casa si manifesta subito nei primi minuti della ripresa. Al decimo erroraccio di Nossa che consegna la palla a Romeo, conclusione vincente e rete che vale il pareggio. Tutto da rifare e 1-1 il Picerno si scuote, lo stesso Nossa al diciannovesimo rimedia lo sbaglione difensivo con una torsione di testa che vale il nuovo vantaggio per i Lucani. Grande reazione per gli uomini di Ginestra, in particolare di Nossa che mette una pezza dopo aver regalato la rete del pareggio. E 1-2 al Papa, Putiolana che non ci sta e alla mezz'ora su punizione sfiora la seconda rete con scalzone, traiettoria di poco a lato, ancora padroni di casa avanti al 38esimo, conclusione di De Marco che termina alta. La rembaggio della Putiolana viene premiata quasi allo scadere, 49esimo, De Marco valtiro colpisce il palo. Sulla ribattuta si avventa a Romeo che sigla nuovamente la rete del pareggio insperato. doppietta per il neo entrato nella ripresa che decide così il match, occasione sciupata. Invece per il Picerno triplice fischio e 2-2 il finale da Cardito.